Grazie della linea e siamo qui con uno dei protagonisti della seconda tavola rotonda. Abbiamo con noi Adriano Nelli, Head of Global Wealth Management Italy di PIMCO. Buongiorno e bentrovato. Buongiorno, grazie. In un forum incentrato sull'asset management è d'obbligo chiederle qual è la view di mercato che ha PIMCO in questo momento? Il modo in cui stiamo guardando i mercati dipende da fondamentalmente tre cicli. Il primo e il più importante è probabilmente il ciclo economico, ma non dobbiamo trascurare anche il ciclo della liquidità e il ciclo politico. Partendo dal ciclo economico, e questo è un po' l'outlook ciclico di PIMCO, vale a dire le prospettive per l'economia nei prossimi 6-12 mesi. Quello che vediamo è ovviamente la debolezza esterna dovuta a un calo forte del commercio internazionale, sta propagando i propri effetti sulla manifattura, sulla produzione industriale. Quindi in realtà abbiamo molti paesi che già stanno sperimentando una mini recessione. Tuttavia il settore dei servizi, il settore dei consumi, e pensiamo ad esempio agli Stati Uniti, è abbastanza resistente. E quindi abbiamo una situazione di un'economia globale che viaggia ad una velocità che noi amiamo definire di stallo, quindi una velocità piuttosto rallentata e che quindi c'è il rischio che alcuni incidenti di percorso possano portare il paese e l'economia globale in recessione. Comunque la recessione non fa parte del nostro caso centrale. Gli altri due cicli molto importanti per capire la dinamica dei mercati finanziari sono quello della liquidità e quello politico. Partendo da quello politico, probabilmente il petito per il rischio che abbiamo rivisto subito dopo l'estate deriva anche dal fatto che le tensioni lato Brexit si sono un po' allentate, quindi un'uscita disordinata di Brexit forse non è più il caso centrale degli investitori. Dall'altra parte c'è un po' di speranza che la dialettica commerciale tra Stati Uniti e Cina sul piano delle tariffe possa portare a quantomeno un'assenza di una nuova escalation. Questi sono fattori che in qualche modo hanno portato il ciclo politico ad avere un minor peso sull'andamento dei mercati. Infine probabilmente quello che conta di più è l'andamento della liquidità a livello internazionale. Qui gioca un ruolo essenziale la BCE e la Federal Reserve. In entrambi i casi le banche hanno iniettato una nuova liquidità e questo è il caso della BCE e dall'altro il fatto che la Fed sia pronta ad intervenire qualora le condizioni dovessero peggiorare e dà in qualche modo un supporto ai mercati finanziari. Ovviamente lo scenario è complesso, si cerca di trovare gli indicatori per capire come si proseguirà anche dopo nel 2020 perché ci si aspetta anche dalle banche centrali probabilmente un cambiamento di orientamento di politica monetaria probabilmente prima dalla Fed che dalla BCE. Questo che impatto ha sugli investimenti? L'impatto sugli investimenti, come dicevo, il ciclo dell'equità dal nostro punto di vista è quello che veramente conta. In questo momento le banche centrali al momento sono ampiamente determinate a sostenere le valutazioni degli attivi. valutazioni che obiettivamente sono già abbastanza elevate, non possiamo dire che non c'è nessun asset class che quota sconto e questo pone noi di PINCO nella condizione di avere un atteggiamento molto prudente agli investimenti che vuol dire un focus attento sulla liquidità dei portafogli, una riduzione della complessità dei portafogli stessi e poi cercare in qualche modo di puntare tutto sull'identificazione di opportunità idiosincratiche presenti nella complessità del mercato obbligazionario anziché prendere scommesse molto forti su questa o quell'asset class. Quindi la parola d'ordine potrebbe essere prudenza? Prudenza ma direi anche pazienza. Pazienza vuol dire detenere in portafoglio dotazioni di titoli facilmente liquidabili che potranno essere molto utili queste dotazioni nel momento in cui vedremo venditori forzati sul mercato e a quel punto sarà molto importante esercitare il ruolo tipico di PINCO che è quello di fornire liquidità al mercato quando il mercato chiede liquidità anziché essere venditori forzati di attivi. Grazie e l'aspetto nella prossima tavola rotonda. A voi la linea in studio.